Se qualcuno ci riesce a comunicare l'elenco di coloro che nelle ultime settimane sono rientrati dalla Cina, cinesi o italiani o europei che siano, perché poi non è che li portano solo i cinesi i folai, e ci diano come si rintracciano, ben volentieri, quelli che sono residenti a Prato possiamo provare a andargli a prendere, se vogliono sottoporli a tampone, perché non so se si può mettere l'obbligatorietà, se la mettiamo benissimo, ma attenzione a quello che si dice, perché se, come sta facendo il centro-destra a Prafese, ancora una volta Prato è la vuanda in mondo, io non ci sto, poi io faccio la mia parte, assolutamente sì, quando il governo mi darà l'elenco di coloro che sono rientrati sul territorio italiano, negli ultimi dieci giorni, due settimane, chi stabilisce poi fare la soglia, io sono pronto a fare la mia parte, comunicati, i canali WeChat che noi abbiamo, li mettiamo a disposizione, chiederemo a tutti quanti a fare lo screening, benissimo, però deve essere una norma nazionale, tutta questa, ancora una volta, questi riflettori solo ed esclusivamente sulla nostra città, a me francamente mi suonano di propaganda.